Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, sono al Fantasy Opera Omnia versione giapponese perché oggi come ben sapete è uscito l'evento di Arsiela o Arsiela, non so effettivamente come la chiamano in molti però dovrebbe essere questo il nome. Oggi col suo evento ovviamente è uscita anche la sua Character Board, la sua Enhancement Board, è uscito anche il banner con all'interno la sua Arma EX Plus e ovviamente all'interno dell'evento abbiamo tutte quante le meccaniche quindi le Multiplayer, Cosmos, X, Chaos eccetera eccetera. Voglio fare un piccolo appunto sulla Chaos che ho fatto però non rispettando gli HP. Mi sono reso conto che ovviamente questa boss fight è tarata principalmente sul personaggio di Arsiela quindi vi do un piccolo consiglio, se avete comunque un Dispeller o un Debuffer, Vanille prima di tutti perché comunque Vanille è quella che secondo me ricopre questo ruolo nella maniera migliore possibile al momento, anche Faris non sarebbe male forse però bisognerebbe vedere come e soprattutto quanti danni riuscirebbe a fare. Vanille invece secondo me è migliore perché Dispella e dà anche comunque difesa down quindi vi permette di fare veramente tanti danni. Io sto seriamente valutando l'idea di fare Vanille e Viola se questo video pool mi dovesse andare tra virgolette male. Visto che oggi comunque ci ritroviamo nel nostro classico video pool. Eccoci qua, come potete vedere abbiamo le varie notizie che ci vengono riportate ma quelle che interessano a noi sono questa ovvero la presentazione dell'evento di Arsiela o Arsiela, io la chiamerò in entrambi i modi quindi scusatemi già a partire da adesso dove appunto otterremo la 15 CP e due armature 35 CP al solito. Quelli che vedete sullo sfondo sono i boss che caratterizzano il suo evento e invece poi al centro al solito il personaggio. E poi il bannerino dove viene appunto fatto vedere il banner dove i personaggi sinergici in questo evento saranno Prish che riceve l'arma EX Plus, Arsiela che prende ovviamente anche lei l'arma EX Plus e poi Rinoa che ha già preso la sua arma EX Plus però abbiamo in Featured 15 e 35 CP. Era da un bel po' di tempo che non vedevamo Rinoa a dirla tutta all'interno del gioco come personaggio sinergico quindi è anche un'occasione magari per chi ce l'ha di poterla utilizzare. Fatta queste piccole premesse andiamo adesso a pullarci questi bene amati ticket sulla batch di Arsiela. Ho farmato tutti i ticket dalla multiplayer ho farmato i ticket tra virgolette dall'evento che sono circa una trentina più quelli della multiplayer sono circa una cinquantina. Infatti in totale ne ho 62 ma solo perché comunque un paio li avevo io e me li sono tenuti da parte che erano una decina di ticket niente di più me li sono tenuti da parte e quindi va bene così. Voglio provare ad utilizzare solamente i ticket qui probabilmente userò anche i ticket delle summon board però questi li utilizzeremo insieme perché stasera al solito alle ore 21 sarò in onda su Twitch per farmare insieme le summon board sia di Arsiela o Arsiela ragazzi ormai ho perso la cognizione del nome e farmerò appunto le summon board per lei e nel frattempo ne approfitto anche per completare pronto visto che alla fine ce l'ho già pronto lo voglio completare. Quindi 62 ticket vediamo un po' quello che riusciamo ad ottenere ovviamente le bocce azzurre o comunque quelle che non danno nessun particolare loading le voglio schippare perché sennò il video verrebbe veramente troppo lungo mentre invece magari le orb quelle che partono silver quindi quelle che partono argentate o addirittura se ci saranno quelle che partono oro le vedremo tutte quante insieme attenzione connecting e loading vediamo se abbiamo un po' di fortuna la ex di Prish mi mancava mi mancava ma non è quella che cercavo a dire la verità non è quella che cercavo va bene va bene prendiamo anche questo prendiamo alla fine quindi chissà magari in futuro potrà essere anche buona non ho nulla di lei quindi proprio praticamente un personaggio che vado cioè dovrei tecnicamente andarmi a costruire da zero potrei farlo perché ho sia le power stone attenzione altro connecting ho sia le power stone che comunque anche i red token eh stavolta stavolta trollino ripeto ho anche i red token quindi volendo potrei anche effettivamente buildarla ma non è un personaggio che mi piace quindi non mi interessa se dovessi riuscire effettivamente a trovare la ex di Arsiela potrei effettivamente pensare di come dire di prendere le armi dal weapon shop e saltare tutto il banner vediamo se abbiamo questa fortuna attenzione altro connecting vediamo se è un altro troll sì è un altro troll oggi proprio i connecting a parte quell'ex che abbiamo ottenuto all'inizio eh vabbè è un altro connecting stavolta stavolta non mi fido questa volta non mi fido cioè mi sta uscendo tutto di prish comunque mi è uscita l'ex mi sono uscite le armi le armi e armature quelle quelle silver quelle quattro stelle altro connecting ci fidiamo? fidiamo? no non ci fidiamo neanche questa volta maledetti trollini maledetti trollini un'altra il connecting era quasi una certezza invece adesso si sta rivelando anche anche questa certezza si sta rivelando una bugia siamo circa a metà pull è un altro connecting ecco stavolta ho fatto bene a non fidarmi vedete anche le armi silver di prish c'è proprio il banner quando ti dice no e no beh il personaggio come questo qua di arsiela potrebbe potrebbe tornarmi utile perché comunque abbiamo visto la meccanica no? da debuffer dispeller quindi non lo so effettivamente magari al posto di di vaniglia magari tu mi dici sai io ce l'ho vaniglia però sai potrei anche dire effettivamente vaniglia non è un personaggio che mi faccia impazzire anche anche come danni quindi magari lei con tutto quello che ha a disposizione potrebbe effettivamente essere un ottimo investimento anche per quanto riguarda i danni niente oggi proprio i connecting vedi mi fanno questi connecting oddio che è? si è schippato subito ecco anche la 35 di prish cioè mi sto facendo praticamente prish mi manca adesso la 15 e ho praticamente il kit completo di prish personaggio che proprio non mi interessava minimamente mentre invece quello che mi interessava ovviamente non ce l'ho perché giustamente è sempre così altri 25 ticket che sono comunque ancora un buon margine per tentare qualcosa li schippo tutti dato che partono tutti con la orb azzurra e non danno neanche quella quella sensazione del connecting che che ti fa sperare di 20 ticket potevamo potevamo chiudere veramente il banner subito e ormai ormai basta non mi fido più di questi connecting però aspetta qua qua che la boccia è argentata non ci credo non ci credo non ci credo ormai 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 una lotta persa la lotta persa la lotta persa contro i connecting erano l'unica certezza di questo gioco adesso non lo sono più non c'è tempo notifiche che mi arrivano a random gli ultimi attenzione un'altra orb vediamo diamo diamo fiducia diamo fiducia niente niente ormai vengo trollato in maniera pesante anche dal gioco vengo veramente trollato in maniera pesante anche con questi connecting non c'è più nulla da fare ultimi tre ticket vediamo se l'ultimo ticket no niente neanche il miracolo dell'ultimo ticket va bene ci abbiamo provato alla fine abbiamo ottenuto un'altra ex che era quella di frisci che non mi interessava assolutamente vediamo se riesco a fare magari qualche summon board per conto mio o se magari aspetto effettivamente stasera e le comincio stasera per fare il tutto quindi spero che i vostri pull siano andati meglio del mio io vi ringrazio al solito di aver visto il video fatemi sapere se voi avete ottenuto arsiela e se volete effettivamente farla viola e se l'avete fatta viola magari fatemi sapere sotto nei commenti cosa me ne pare detto questo vi saluto e ci becchiamo alla prossima ciao